Buongiorno, io lavoro per il Marchio Sia, che è un nuovo brand italiano e come fashion designer e siamo venuti qui alla Milano Unica appunto per avere qualche ispirazione riguardo le nuove tendenze, nuovi tessuti e mi è piaciuto molto il tema del Save the Planet perché penso sia un tema da prendere in considerazione e spero che tutti i marchi inizino veramente a considerare questo argomento perché è molto importante e noi in primis lo terremo in conto.